Salve a tutti amici di Marcos Box e benvenuti in questa piccola preview di SuperTruxCart per Android. Sì, avete capito bene, SuperTruxCart, il famoso gioco di kart nato su piattaforma Linux con personaggi ispirati al mondo del software libero open source, sbarca ufficialmente su Android. E' disponibile per il download direttamente dal pre-store di Google, qualora non vogliate instalarlo al pre-store di Google o non possiate, sarà comunque possibile instalarlo direttamente tramite APK disponibile sul sito internet degli sviluppatori. Andiamo a vedere subito com'è il gioco. Ve lo dico fin da subito, si tratta in tutto e per tutto di SuperTruxCart versione PC su Android. Quindi abbiamo le stesse funzionalità, abbiamo le stesse possibilità di personalizzazione, la stessa possibilità di aggiungere add-on e quant'altro. Quindi se avete giocato, se siete dei fan di SuperTruxCart potete ritrovare la stessa esperienza di gioco del PC su vostro smartphone Android o tablet. Questa è l'interfaccia principale, cliccando sulla chiave inglese qui è possibile modificare alcuni aspetti della grafica, dell'audio. Ho disabilitato un po' i suoni perché altrimenti vi sentivate la musichetta e non sentivate me. C'è la possibilità di cambiare il tema, la possibilità di personalizzare il nostro profilo e i controlli. Come potete vedere c'è la modalità storie, c'è la modalità giocatori singoli, c'è la modalità multigiocatore, c'è la possibilità di aggiungere kart, giri, arene e quant'altro. Andiamo a vedere subito il gioco come è strutturato, prendiamo un personaggio che mi è familiare, con qui, visto che sono capitano Kubuntu. Prendiamo una mappa chiara, numero di giri 3, ok, avviamo il gioco. Vi dico subito che giocare è molto semplice, sulla sinistra abbiamo il nostro volante, sulla destra abbiamo lo specchietto, la frenata e la nitro. Ecco, facciamo un piccolo giro di test senza andarmi magari a schiantare. Andiamo a prendere il pacchetto, non ce l'ho fatta, maledizione. Questo è uno dei giochi preferiti a mio nipote, quindi quando saprà che è disponibile anche per Android, di sicuro ne sarà felice. Ci giocava quando era piccolo, quindi diciamo che è cresciuto a pane Linux, anche in questo caso, anche giochi per Linux. Ecco la nitro. Il gioco gira bene, guardate, è fluido anche se non sto giocando su un mostro di potenza, perché sono su Lenovo K6, quindi anche se il device, diciamo così, non è prestante, il gioco gira bene ugualmente. È molto divertente, se conoscete questo gioco, se siete appassionati del genere, di sicuro non vi lascerete scappare la possibilità di installarlo sul vostro tablet o smartphone Android e di passare dei bei momenti, ecco, ho fatto saltare in aria, dei bei momenti di divertimento nelle vostre pause dalla vita quotidiana. Installatelo, è divertente, anche se non avete mai giocato a questo gioco, fateci un salto, fateci una prova, vi divertirete sicuramente. Con questo concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo al prossimo video, chiacchierata o quant'altro. Ciao ciao.